per l'appuntamento dedicato alla gossip tv o gossip tv che dir si voglia approdiamo verso un personaggio particolarmente amato dal pubblico femminile avete presente johnny depp sì pensate non vuole sposarsi con la sua vanessa paradise sapete perché perché non vuole rovinarle il cognome così esotico e bello e troppo banale per diventare la signora depp quindi chissà quante di voi magari desidererebbero convolare a giuste nozze con johnny depp a prescindere dal cognome comunque pensate tanto per fare un flashback del di questa fantastica storia d'amore ha incontrato la sua anima gemella nel 1998 e dal loro amore sono nati lily rose e jack quindi tre figlioli per johnny è il momento della tv yesterday per quanto concerne questo appuntamento questa settimana parliamo di un'altra emittente storica dell'etere romano parliamo di tvr boxon nata pensate nel 1977 e a suo tempo era sia radio che televisione trasmetteva sul canale 50 e ricordiamo tra le altre cose un programma storico proprio dedicato a voi con lamberto giorgi che salutiamo e adesso trasmette sul canale 63 del dtt digitale terrestre a a a a a a a a Grazie a tutti. Poco fa abbiamo parlato delle notizie più strane, più particolari da tutto il mondo con il Vortice e adesso arriviamo a quelle che sono le cose più strane, i video più strani attraverso YouTube, YouTube e YouTube. Grazie a tutti. 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 Oh! 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 Parliamo di Stefania Rotolo con una sigla che si chiama Disco Tic e una sigla che fa parte di una trasmissione cult che è Tilt. Quindi andiamo in Tilt piacevolmente proprio con Stefania Rotolo. Buona visione e buon ascolto. Ehi, prezza finché puoi, metti in frigo i casi tuoi, chi ci vuole un tea?